Scusa? Ehi, allora, oggi mi raccomando fai attenzione che è una giornata importante, oggi Fiorello fa il suo esordio su Sky e quindi oggi condurrai con questa davanti alla faccia. Su Rai 1, butta la Luna 2. Continua l'epopea di butta la Luna 2. L'Odissea in confronto è un bignami. Ragazzi, ma questa è la copertina di un puzzle e soprattutto è orrenda. Oh, ma che gentili, è un regalo per me! No, è per ricordarti che stasera su Sky 1 c'è il Fiorello Show. Su Rai 2, anno zero. Travaglio ci pungerà con uno dei suoi accuminati editoriali. Ma Fiorello è molto più pungente nel suo show di Sky 1. Su Rai 3, K-19. Harrison Ford ha le prese con un reattore nucleare difettoso. Sarà mica quello che regola la sua prostata? Oltre a non dimenticare che su Sky 1 c'è Fiorello con il suo show, non dimenticate lo spazzolino da denti. Su Canale 5, il Grande Fratello 9. Puntata sorpresa! A sorpresa lo dici tu. Ti ricordiamo che su Sky 1 c'è il Fiorello Show, dunque a Mediaset tirano fuori l'artiglieria pesante. Magari se ti mettessi a lavorare. Su Italia 1, CSI e CSI New York. Ormai sto iniziando a dimenticarmi Orazio. Orazio, oddio che strazio. Ho fatto la rima. Dai, dai, non piangere Vai a prendere un gelato Stasera pago io Ah, ma l'abbiamo detto che stasera su Sky 1 incomincia il fiorello show Il gelato dopo Torna a lavorare Barba Su rete 4, pari e dispari Li abbiamo tanto invocati ed ecco che ritornano Bad e Terence, in forma smagliante, vanno a sfasciare un paio di mische Ehi, vuoi comprarlo questo? Guarda che è un affarone, è veramente falso Intanto, mentre ci pensi, noi ricordiamo che su Sky 1 stasera inizia il fiorello show Sulla 7, l'ispettore Barnaby Oggi puntata da rimanere inchiodati alla sedia L'ispettore Barnaby salva la festa di quartiere Bene, adesso fatti la coda e tiri in mezzo alla gente Che nel frattempo noi annunciamo Fiorello su Sky 1 con il suo show Yeah ragazzi, benvenuti al karaoke Su MPD c'è Kebab for breakfast E per digerirlo, su Sky 1 c'è il Fiorello show Su All Music c'è Mono e poi DJ chiama Italia Sì, ma viva Radio 2 Giusto per non dimenticare che su Sky 1 c'è il Fiorello col suo show A domani E se i palinsesti cambiano, non date la colpa a me Date la Fiorello, per favore E se i palinsesti cambiano, non date la colpa a me